Il presidente della provincia di Teramo, Diego di Bonaventura, ha segnato le deleghe questa mattina ai consiglieri della lista La Forza del Territorio con Astolfi. Edilizia scolastica, ambiente e consorsi, servizio civile a Severino Serrani. Politiche per la zona montana a Giovanni Tiberi. Progetti comunitari, dialogo con il territorio e relazioni con il capoluogo a Giustino d'Innocenzo. Politiche sociali e volontariato e pari opportunità ad Ambra Foracappa. Organizzazione scolastica e servizi a rete, trasporti e mobilità a Domenico Pavone. Viabilità, programmazione e regolazione stradale sono state invece riassegnate a Mario Nugnes del gruppo misto. Il presidente di Bonaventura manterrà per sé le deleghe alla pianificazione, alla programmazione, alla strategia e al marketing territoriale. Altre deleghe saranno assegnate dopo una valutazione più complessiva anche in rapporto ai tempi e ai modi di elezione del nuovo consiglio. Presidente, sono state assegnate le deleghe, che squadra sarà la sua? Lei mantiene la pianificazione, la programmazione e il marketing territoriale? Sono dei punti strategici che vanno a chiudere le deleghe che hanno i consiglieri. Una squadra che è entusiasta e rimotivata perché con me non possono giocare giocatori che non sono entusiasti, che sono passivi e che non hanno la speranza. Una squadra che ha la speranza di poter cambiare le condizioni di questa provincia. Ho dato le prime deleghe, non tutte le deleghe perché vorrei avere un coinvolgimento di altri gruppi consigliari. Io sono uno che tende sempre la mano e non cerca mai di lavorare contro qualcuno, ma sempre per qualcuno che è la mia comunità e il mio popolo, che oggi è un popolo di 340 mila abitanti. Eccoci qua, ripartiamo subito dai concetti che abbiamo un'emergenza su più fronti, che è quello del piano neve, che è quello degli impianti cistici di Pietra Camela e Fano Adriano. Pensavamo già di metterci al lavoro su dei tavoli tematici per programmare una provincia diversa da quella che è oggi. E si comincia dalle prime cose che dicevamo, neve e impianti cistici.